Eh sì caro mio, ormai è sempre lo stesso giochino, creiamo casini tra popoli, poi interveniamo per farli pacificare, perché noi abbiamo portato la pace, la democrazia, se tu le rendi conto. Ma tu sai qual è la cosa più assurda? Che loro sanno e conoscono bene il giochino sporco che facciamo. Io penso che la gente diventi frustrata, depressa, perché non gode, non sente più le cose, non si prende più il tempo di farle. Non è cambiando uomo a donna che si risolvono le cose. Lo stesso problema risorgerà anche con quell'altro. Bisogna risolverli dentro Israele. E voi che cazzo avete da guardare? Voi che guardate me? Voi non siete diversi da me, ma siete peggio! Imbroglioni, facendieri, ladri, terlinguenti, usurpatori! Ma che pensate che siano i denari in tasca a farci diventare dei signori? Tutti siamo liberi di fare quello che vogliamo, no? Ricordate che ognuno raccoglie ciò che assemina e il conto prima o poi arriva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!